Siamo con Maria Orlando, presidente dell'associazione La Libellula, che promuove l'evento Waiting for Santa Claus Party. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento che tendenzialmente promuove la giornata del 3 dicembre improntata sui diritti delle persone diversamente abili. Abbiamo creato questo evento proprio per donare una festa, un evento ludico di sorrisi, di gioia, ai bambini diversamente abili, ai ragazzi diversamente abili, minori a rischio, minori con famiglie disagiate. Abbracciamo un po' il disagio sociale in questa festa, tramutandolo poi in una vera e propria attività di giochi, canti, balli, animazione, sorriso. Divertimento. L'evento si svolgerà presso la tendostruttura della Salle e in seguito sicuramente abbiamo creato un format che forse intenderemo riproporre anche negli anni futuri. Trattasi di un evento fondato principalmente sulla beneficenza, sulla solidarietà, che appunto c'è stata una vera e propria chiamata alla solidarietà e una bella risposta massiccia da parte di tante associazioni, sia sul territorio e anche fuori territorio, che appunto hanno avallato la nostra proposta e hanno collaborato attivamente affinché essa potesse avere buon esito. Io infatti intendo ringraziare se possibile le associazioni che hanno collaborato con noi, intendo ringraziare anche l'amministrazione nella persona del sindaco e nella persona dell'assessore Speranza che ci hanno dato appunto il comodato d'uso della struttura permettendoci di svolgere questo evento e mo ci vuole di donare veramente un sorriso a chi è meno fortunato.